Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi affronteremo un argomento relativamente nuovo sul quale, a dire il vero, non c'è molta letteratura disponibile, e cioè l'inserimento di commenti e note all'interno di Excel. Perché dico questo? Perché finora si è sempre parlato della possibilità di inserire commenti, ma in Excel per Office 365 il modo in cui funzionano i commenti è fondamentalmente cambiato. Perché adesso i commenti veri e propri sono filettati e consentono di discutere con altre persone sui dati. Le note invece funzionano come i commenti usati nelle versioni precedenti di Excel. Per cui in questo tutorial vedremo come inserire commenti e note, qual è la differenza sostanziale tra le due cose e andremo a capire quando è meglio usare commenti oppure note. Insomma, sono felice di essere pioniera insieme a voi nell'affrontare questo argomento che nessuno ha mai affrontato prima di adesso. Supponiamo di avere il fatturato dei primi tre trimestri di un'azienda e di voler inserire delle notazioni in questo foglio di lavoro. Ah, prima di cominciare vi ricordo che ciò che oggi si chiama nota, nelle versioni precedenti di Excel era chiamato commento. Quindi per aggiungere una nota basta fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella, per esempio andiamo su questa cella C3 e da questo menu andare a scegliere nuova nota. A questo punto vado a digitare il testo all'interno della casella che si è aperta. Ok, faccio un click fuori ed ecco che la nota sparisce, la casella di nota sparisce, ma rimane però un indicatore rosso che sta a indicare appunto la presenza di una nota. Per visualizzarla, come avete appena intravisto, basta passare semplicemente il puntatore del mouse sulla cella interessata, senza neanche cliccarci attenzione, ed ecco che riappare il contenuto della nota. Benissimo, benissimo. Poi per esempio vado a posizionarmi nella cella C5 e inserisco un'altra nota, per farvi vedere che è possibile farlo seguendo anche un percorso alternativo, ovvero tramite scelta rapida della tastiera e quindi premendo i tasti maiuscolo più F2. Quindi se premo maiuscolo più F2, ecco che creo una nuova nota e vado a scrivere, quindi c'è una variazione minore, chissà perché. E mi metto fuori. Vado su C6 e ne inserisco un'altra ancora, per farvi vedere altre cose. Prima di tutto che posso modificare o eliminare del tutto il mio nome. Ok? Ah, e un'altra cosa è che è possibile andare a formattare il testo. Quindi per esempio, se scrivo questa cosa, posso prendere la parola primavera e scriverla in grassetto, con un altro tipo di carattere, magari, che ne so, aumentandone le dimensioni, supponiamo. Ok, clicco fuori. Ora, le note, basta selezionare la scheda revisione e dal pulsante note basta andare a fare clic su nota precedente o nota successiva. Come vedete anche da qui è possibile creare una nuova nota. Quindi, per esempio, clicco qui e faccio precedente, precedente, precedente oppure successiva e così via. Da questo menu posso anche decidere di mostrare o nascondere tutte le note contemporaneamente. Se clicco una volta su mostra tutte, vengono mostrate tutte. Se ci riclicco, allora vengono nascoste tutte. Ma preferisco mostrarle tutte. Perché? Perché voglio dirvi quest'altra cosa. Se quando le mostro tutte si accavallano, come in questo caso, e non riesco a leggerle, ho la possibilità di spostarle. Per farlo, basta fare clic sul bordo di una nota e poi semplicemente trascinarlo. Ed ecco che, in questa maniera, riesco a spostare in modo da vederle tutte, da riuscire a leggerle tutte. Ma posso anche semplicemente ridimensionarle. Questa, per esempio, mi sembra troppo grande. Come si fa? Basta fare clic sul bordo di una nota e poi trascinare uno dei quadratini. Quindi questo, oppure questo, oppure quest'altro ancora. Insomma, ridimensionare la mia casella. Se invece non la ritengo più necessaria, la posso direttamente eliminare. Basta fare clic sul bordo e poi premere Canch sulla tastiera. E fin qui, diciamo, più o meno era quanto si riusciva a fare con le versioni precedenti di Excel. Ma, come vi ho anticipato poc'anzi, con Excel per Office 365, possiamo dar vita a delle vere e proprie conversazioni con gli altri utenti, usando quelli che oramai si chiamano commenti e che prima non esistevano completamente. A differenza delle note, infatti, i commenti, come vedrete tra un attimo, hanno una casella di risposta. E quando le persone rispondono, è possibile vedere diversi commenti collegati tra loro, mostrando quindi questa conversazione virtuale, chiamiamola chattata, sulla nostra cartella di lavoro. Allora, come si fa a iniziare una discussione? Quindi, praticamente, come si fa a inserire un commento? Basta posizionarsi su una cella e andare a fare clic col pulsante destro del mouse e scegliere da questo menu, stavolta, nuovo commento. Ecco che si apre una finestra diversa da quella di prima e qui posso avviare una conversazione. Quindi, magari, in corrispondenza della variazione di luglio, vado a scrivere dobbiamo parlarne alla prossima riunione. E clicco su invia. Appare la data e l'ora esatta in cui è stata avviata questa discussione e se io mi allontano con il cursore dalla cella, vedete che il commento scompare. Anche stavolta rimane un indicatore, in questo caso viola. Per visualizzare di nuovo il commento, basta posizionare il puntatore del mouse sulla cella ed ecco che il commento riappare. benissimo. Se altri utenti hanno qualcosa da aggiungere, possono tranquillamente fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella interessata e scegliere da qui rispondi a commento e così scrivere il loro commento e continuare la discussione. Ogni utente ha la possibilità di modificare un commento, quindi se io praticamente voglio andare a modificare quello che ho appena scritto, posso entrare nel commento e scegliere modifica. Da qui a portare le mie modifiche e poi cliccare su salva. Ok. Anche in questo caso, per rivedere i commenti, basta dalla scheda revisione andare a fare clic su commento successivo o commento precedente. Vabbè, in questo caso ce n'è uno solo, quindi non c'è un successivo o un precedente. Un'altra cosa ancora, se vogliamo mostrare o nascondere tutti i commenti contemporaneamente, anche in questo caso bisogna agire dalla scheda revisione e più precisamente da questo pulsante mostra commenti. Se ci clicco, come vedete, a differenza di prima, viene caricato un nuovo riquadro attività qui a destra, che mostrerà tutti i commenti in ordine. Ripeto, in questo caso ne abbiamo solo uno, ma eventualmente li mostrerebbe tutti. Chiudiamo questo riquadro perché voglio dirvi un'ultima cosa. Se una conversazione è completata e vogliamo chiuderla, è possibile contrassegnarla come risolta. Basta posizionare il cursore sulla cella, quindi fare clic su questi tre puntini e poi andare a cliccare su risolvi thread. Così facendo il commento sarà ancora visibile, ma non sarà più possibile apportare altre aggiunte, a meno che non venga riaperto, cliccando su riapri. Se invece vogliamo eliminare definitivamente un commento, basta fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare elimina commento. Avremmo potuto farlo anche dalla scheda revisione. Dunque, tirando un po' le somme, quali sono le differenze sostanziali tra commenti e note? Anzitutto visivamente. Abbiamo visto che le note hanno uno sfondo giallo, i commenti hanno uno sfondo bianco. Poi, come abbiamo visto, nelle note è possibile formattare il testo, nei commenti invece non è possibile farlo. Altra cosa che abbiamo visto è la possibilità di ridimensionare le note, cosa che ad oggi non è possibile fare per i commenti. Altra cosa che è possibile fare nelle note è rimuovere o modificare il nome. Nei commenti non è possibile. Altra differenza è che i commenti possono essere mostrati tutti in un riquadro accanto ai dati, mentre le note possono essere mostrate solo distribuite tra le celle e non in un riquadro qui accanto ai dati. Ma ultima differenza, forse anche più importante, cioè quella che fa appendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, è la possibilità di risposta. Infatti, mentre nelle note non c'è nessuna possibilità di rispondere, nei commenti invece sì. Dunque, se vi state chiedendo quando è che dobbiamo usare una nota piuttosto che un commento, la risposta è semplice. Se non avete la necessità di avere una discussione sui dati, usate una nota, che serve come annotazione, come promemoria per le celle in questione. Se invece avete la necessità di discutere con il vostro team, i vostri collaboratori, il vostro staff o comunque con altre persone dei dati che sono contenuti in determinate celle, allora assolutamente usate i commenti. Perfetto. Quindi, abbiamo parlato di discussione con un team lavorativo, collaboratori o altre persone in generale, perché questa lezione è preludio di un altro importantissimo argomento che affronteremo nella prossima, ovvero la condivisione di una cartella di lavoro con altri utenti. Intanto, se questo tutorial vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a commentarlo e perché no, anche a condividerlo con i vostri amici via social. Vi ricordo che se volete impratichirvi con gli esercizi, potete richiedere il pacchetto di file e soluzioni ampiamente commentate che ho creato ad hoc per questo corso. Potete farlo scrivendo i mette verso il modulo dei contatti del mio sito, linkato in descrizione. Infine, se non volete perdervi le prossime lezioni, iscrivetevi al canale. Ciao!